Oggi inaugurazione del nuovo reparto di neurologia con i 10 posti letto, 4 di intensiva e 6 ordinari. Oggi riparte il nostro ospedale, ripartono gli ospedali della regione Campania e noi oggi siamo pronti, siamo pronti con questo nuovo reparto, un reparto che per noi è l'espressione della rinascita in una città che ha sofferto tanto e che guarda al futuro, a quello che potrà essere la vita ordinaria, sperando che possiamo ridare alla nostra realtà quella che è la speranza di tutti di uscire fuori da questa emergenza. Approfitto per ringraziare anche il reparto di neurologia che si è messo a disposizione in questo periodo di emergenza con medici, infermieri e operatori sociosanitari a sostenere il reparto di medicina Covid.